Questo bellissimo parco non è un parco qualunque, è un parco di commemorazione di un fatto bellico e di sangue avvenuto il 4 giugno del 1944, mentre dall'altra parte di Roma stavano entrando gli angloamericani e questi invece fuggivano e allora ricordiamo i nomi di questi patrioti che nonostante stessero fuggendo non fuggivano di loro iniziativa, poi dopo racconteremo tutto. No, sommariamente bisogna raccontarlo, altrimenti non c'è senso. Allora, aspetta un attimo, alla memoria di Arrigo Eugenio, tenente delle forze armate, Borian Freggioric, ingegnere, Brandi Marte Alfeo Maggiore, Buazzi Bruno, sindacalista, notiamo Buazzi Bruno, Castellani Luigi, professore, Conversi Vincenzo, ragioniere, De Angelis, libero meccanico, Di Pillo Edmondo, ingegnere, Dodi Piero, generale di cavalleria, Eramo Lino, avvocato, Pennacchi Alberto, tipografo, Sorrentino Enrico, colonnello delle forze armate, Tunetti Saverio, insegnante, e l'inglese conosciuto, Che poi è stato identificato in Captain John Armstrong, Conosciuto meglio, è identificato come Gabor Adler, E qui siamo di fronte a tutto uno scenario del codice Rebecca o cose analoghe. Allora, l'unica cosa che volevo dire è questo. No, bisogna dire, questi non è che fuggivano per cazzi loro, Dillo De, dai, racconta tutto. Con l'ingresso degli americani, degli angolo americani e quindi della mafia a Roma, Ricordiamoci che la mafia di Roma è entrata il 4 giugno 1944, Dopo aver sfondato le difese della linea? Sì, dopo aver sfondato... Gustav? Della linea Gustav? No, dopo aver sfondato soprattutto... Ad Anzio, ad Anzio. Dopo non erano più stati in condizione di controllare la situazione. Allora, questi sono stati gli ultimi carcerati, Carcerati, che gli altri sono stati messi tutti in libertà. Non carcerati? Non erano carcerati a Regina Celi? Erano carcerati a Via Tasso. A Via Tasso, ricordiamolo bene. La famigerata Via Tasso, dove ci andavano ad essere torturate le persone. No, no, non è così. Alcuni sono stati torturati, alcuni, ma non tutti. Pochi per fargli parlare. Io li avrei torturati, dico francamente, Molto più, con maggiore raffinatezza per fargli parlare. Invece erano giù legnate, bastonate. Comunque, non è quello che stiamo dicendo. Queste persone sono state uccise da mano tedesca, ma il mandante non era tedesco. E ci basti dire questo. Soprattutto per ricordare che Bruno Buozzi è stato ucciso, e la mia ipotesi... Dai fuoi concorrente, diciamo così. Esattamente. E la mia ipotesi, e nessuno l'ha mai obiettato, gli altri sono morti per copertura della morte di Bruno Buozzi. Sì, perché era lui quello da colpire. Come Maren, che era da colpire nel fatto dell'iscidio di Parigi. Esattamente, bravissimo. Mare, mi pare, che è stato un grande economista, che nella sua pubblicistica, peraltro vastissima, si è sempre battuto contro gli economisti... Dell'ufficialità, dell'Accademia. Ma io volevo ricordare un'altra cosa. Io ho sempre sostenuto la tesi che a Dongo, dei 15 di Dongo, ne hanno uccisi 15, indipendentemente dalle posizioni che avevano, perché c'erano molti che erano ex ministri della Repubblica Sociale Italiana, ma sicuramente quelli che... Io ti volevo sempre fare una domanda particolare. Ma tu del Bordica, poi mi dici del Bordica, che cosa pensi in quella situazione? No, no, che c'entra. Nel Bordica fa parte di quel gruppo di fondatori del Partito Comunista Italiano, compreso Nicolino Bombacci, il quale Nicolino Bombacci è stato ucciso fra quei 15 di Dongo. Non a caso, anche lì c'è una vedetta della gelosia. Ma chiamiamolo gelosia, ci dici, sono dei rapporti molto più interessanti che usciranno fuori probabilmente fra una cinquantina d'anni. Vabbè, diciamo, dramma della gelosia per modo di dire. Enfaticamente. Ricordiamo che Nicola Bombacci aveva tenuto sempre dei porti molto stretti con ambiti staliniani, diciamolo così, in maniera molto chiara, per riuscire a capire per quale ragione alcune persone, alcune persone ritennero giusto far fuori tutte quelle persone. Infatti lì c'entra una storia non solo della vita, della fuga di Mussolini, ma della lotta interna al Partito Comunista che non sembrerebbe proprio... Esattamente. Nel caso particolare di Bruno Buozzi, all'epoca... Sempre analogo a questo discorso, ricordiamolo sempre. Bruno Buozzi era stato nominato... Perché questi erano comunisti veri, quelli della prima ora, quelli che poi sono subentrati, erano i discepoli indisciplinati. Comunisti col K, che poi si sono trasformati in catto comunista. Esatto. Lo sappiamo perfettamente. Certo. No, noi lo sappiamo, ma chi ci ascolta forse non lo sa. No, ancora, se no avrebbero addirizzato... Diversamente il loro voto. Bruno Buozzi all'epoca era il segretario generale della CGL e non dico per quale ragione, perché io basta che le persone si vadano a informare e si capisce perfettamente come fu arrestato Bruno Buozzi, quale era ufficialmente, ufficialmente con un altro nome e ufficialmente l'hanno sempre tenuto con un altro nome. Tant'è vero che quando lui è partito con l'ultimo camion... Ricordiamoci che quello era l'ultimo treno per Iuma. Sì, esatto. È partito con l'ultimo camion e c'erano i familiari che stavano lì a vedere perché gli altri erano stati messi in libertà. E Bruno Buozzi, quando è salito su quel camion, ai familiari, mi pare la moglie, dice state tranquilli, state tranquilli... Andiamo in Germania. No, no, non doveva andare in Germania. Vabbè, doveva andare in Repubblica Sociale Italiana e poi forse in Germania. Doveva collaborare con Nicolino Bombacci per le leggi sulla socializzazione... Delle imprese. Esattamente. Quella che poi fu redatta l'ultimo giorno prima della caduta della Repubblica Sociale. Esattamente, meglio tardi che mai. Ed è stata la legge che è stata, la prima legge che è stata abrogata appena è finita la guerra. Quindi immaginatevi un po'. L'hanno inserita in Costituzione, però molto edulcorata. Molto edulcorata perché nella Costituzione c'erano delle persone che ci tenevano... Articolo 47. Esattamente. No, è fatto bene ricordarlo perché la cosa è questa. Ricordiamo sempre che Bruno Buozzi era, all'epoca in cui fu assassinato, era il segretario generale della CGL e si è sempre opposto alla divisione della CGL in due tronconi, quello democristiano e quello comunista. Questa è la ragione vera per cui l'hanno fatto fuori. La fai da interna, al solito. Ma più che interna erano gli interessi di queste due che erano interessati a confiscare tutti i beni che erano enormi dei sindacati. Come gli attuali, pochi sanno che le associazioni della Confederazione Generale dei Sindacati e tutte le altre tre maggiori categorie sono la prima grande multinazionale italiana con circa 5 mila miliardi di euro di quotazione dei beni in palazzi che erano i vecchi palazzi dei sindacati fascisti. Esattamente. Costruiti tutti nella riforma fascista del 23, 24, 25. No, fino al 35, 36. Sì, a partire da quegli anni lì fino al 35, 36. Il palazzo che adesso vi risultava era del Partito Comunista via Bottega Oscure era il sindacato fascista mi pare del cinema, del cinematografico via Bottega Oscure. Si può vedere benissimo perché è rimasto intatto come era ci sono dei bellissimi affreschi proprio in quel senso. Detto questo per far vedere quanto sia stato importante questa strage questa strage diciamo tra parentesi No, quanto ha inciso sulla vita sociale politica, economica e sindacale e nessuno se lo ricordo mai tranne quella delegazione di disperati che viene qui il 4 giugno a fare la commemorazione. Vi voglio ricordare anzi voglio fare presente che se ne accorsero immaginate un po' quando il buon Craxi entrò in rotta di collisione col Partito Comunista provocatoriamente venne qui a iniziare a fare la prima rievocazione e dove face un discorso qui chiaramente in senso anticomunista chiaramente quindi queste cose sono documentate eccetera ho detto questo e siccome la realtà è questa noi abbiamo parlato di mafia e a conferma di quello che sta succedendo oggi in Italia voglio leggere due cose la prima è la presentazione di questo importantissimo libro di Gianluigi Paragone ora Gianluigi Paragone è è personaggio molto discutibile diciamo sì ma il bello è questo che lui ha sempre tenuto i piedi in molte staffe soprattutto in quel suo programma televisivo tant'è che a noi non ci ha mai invitato e mai ci inviterà io non ci sarei andato comunque perché in quel casino era roba fatta apposta per creare casino su cesti con confusione ma evidentemente il personaggio ha imparato la lezione sa che l'argomento tira oramai sì però lui dice delle cose che io le voglio leggere ai nostri amici vi consiglio di comprarlo il libro è stato pubblicato da PM e voglio leggere perché sono un paio di paginette ed è veramente ed è veramente interessante il perverso intreccio tra politica e finanza che ci frega il portafoglio e la vita ora ripeto Gianluigi Paragone quando fa le sue trasmissioni sembra che sia al di fuori di questi problemi in realtà può anche darsi che ci sia stata una conversione un viaggio sulla via di Damasco non credo le vie di Damasco si aprono dappertutto è capito anche qui ricordiamoci che qui fecero finta immaginate io conosco tutta la storia per una serie di ragioni che è inutile che le ripeto perché gli amici possono venire qui e possono vedere su Alba Mediterranea su Accademia della Verità e della Libertà più di una volta siamo venuti qui abbiamo raccontato in retroscena della questione a un certo punto arrivati a questo punto l'autobus il camion era un camion e cominciò a sbuffare e era rotto allora si infilarono qua dentro che era un bosco ricordiamocelo bene quindi non era un campo aperto era sera tardi e li tennero prigionieri in una cascina qui vicino la mattina alcuni bambini che avevano visto questo strano movimento che guardavano da quelle fai vedere guardavano da quelle parti li guardarono li videro portare via uno per uno e un tale con un cappello da ufficiale si presume che fosse priviche e lì ci sono delle ragioni specifiche potrei raccontare un'altra volta che allora era colonnello no tenente colonnello no no assolutamente no poi non era nemmeno tenente colonnello perché era esponente di una di una di una polizia molto privata che nulla aveva a che fare con l'esercito tedesco e men che meno con l'esercito ah è vero è vero e men che meno con l'esercito mi sono ricordato è vero durante la notte arrivò uno strano motociclista che vedi caso arrivò proprio qui come faceva il motociclista a sapere che non c'erano i cellulari che si era rotto il camion era già preordinato fin dall'inizio tutto il motociclista arrivò durante la notte e poi ripartì quando avviene il massacro il camion vedi caso è ripartito quindi non potevano dire che era guasto non potevano averlo riparato in una notte perché quei bambini lì dei contadini che stavano sopra non avevano mai visto che il camion fosse riparato c'è di più siccome questo era l'ultimo camion e siccome la colonna era abbastanza lunga perché era partita tutta quella quella truppa tedesca che ripeto non erano SS l'hanno detto ma non erano SS era una polizia privata tipo Sturmtruppen tipo Sturmtruppen sì era beh Sturmtruppen Sturmtruppen era una battuta era l'esercito era sì era una truppe d'assalto dell'esercito regolare lo so e dunque questi con le mani legate dietro la schiena furono portati qui uno per uno e quel tale col cappello da ufficiale che appunto non era ufficiale dell'esercito e nemmeno della SS ma di una polizia privata che era la polizia che faceva la sorveglianza di Villa Voloskonsky cioè la sede dell'ambasciata tedesca che pochi mesi prima era stata venduta agli inglesi in Vaticano queste cose cari amici le dovete sapere questa interferenza fra Germania e Inghilterra è molto strana ma è anche molto ripetitiva in altri casi ricordiamoci il volo in Inghilterra eccezionale vabbè lì nel caso particolare il volo fu intercettato nel senso che no ricordiamoci i motori Rolls Royce che l'Inghilterra vendeva per fare gli avviocetti 2002 della della V2 no non della V2 della Meschermitt beh certo è ovvio ti invasi altro che quello capito quella Meschermitt è stata una grande marca comunque quando Rudolf S che ricordo era nativo di Alessandria d'Egitto che sappiamo bene da che genie e progenie proviene esattamente volò in Egitto non a caso volò per prendere contatti con certi ambienti inglesi nell'ambito diciamo allora bene che non era né inglese né tedesco lui era nato alessandria d'Egitto come tanti italiani è pieno di italiani un grande croggiuolo da questo punto di vista ma è sempre stato un croggiuolo da quando Alessandria d'Egitto era d'Egitto davvero esattamente beh sempre d'Egitto d'Egitto intendo dire quando l'Egitto era nazione diciamo culturalmente molto più elevata dal resto del mondo l'Egitto è stato sotto il chedivee della Turchia per variati secoli prima che fosse così prima che fosse condotto dagli arabi diciamo e dall'Islam era l'ultima capitale della cultura occidentale greco ortodossa diciamo così greco latina ci hanno studiato e ci hanno insegnato le migliori menti dell'epoca i grandi fondatori del cristianesimo e ci hanno pure giocato i figli di puttana tipo San Cirillo che è stato giustamente visto che era il più grande figlio di puttana in circolazione dichiarato padre della chiesa uno dei quattro padri della chiesa esatto ignorando il vero padre della chiesa che è stato Seneca ricordiamocelo bene allora tornando a noi questo famoso volo fu intercettato nel senso che lui avrebbe dovuto incontrare certe personalità e invece fu beccato dalle persone che facendo il lavoro loro sul serio sì dal conto del buon Churchill certo dopodiché che è successo al buon Rudolf Hess buon Churchill è un eufemismo ricordiamolo sempre no no non te lo so che tu lo sai loro forse non lo sanno il buon Rudolf Hess passò tutto il resto della sua vita fino a rimanere da solo in un carcere nel cuore della Germania e poi fu liberato all'età di 96 anni sì quando si suicidò nel giorno in cui ebbe la liberazione vedi caso si suicidò quindi chissà come chissà perché esatto ecco appunto a 96 anni c'è la forza il coraggio e la disperazione di suicidarti si aspetti tre giorni e diventa automatica esatto allora leggiamo questo scritto di Gianluigi Paragone ve lo ricordo cari amici se volete leggere un libro interessante dovete comprare questo libro caro risparmiatore i tuoi soldi sono i nostri per tanto non ci richieda perché noi li facciamo girare nel nostro interesse nel caso non fosse soddisfatto del servizio non importa tanto non ci troverà siamo nell'era del mondo liquido dei servizi materiali dei call center non sarebbe meglio se ce lo dicessero così chiaramente invece di illuderci con pubblicità da baci perugina almeno uno lo sa lo sa quelle che ci mancano in realtà sono le informazioni è la conoscenza noi andiamo sulla fiducia loro sulla nostra ignoranza questa è la prefazione ecco perché noi facciamo questa opera di educazione di controinformazione loro sono il gang bank un sistema di saccheggio instaurato dalle elites colossi bancari fondi di investimento agenzie di rating multinazionali che controllano la fidanza globale dilagono come ordie barbariche mosse da una sede da una sede inestinguibile non limitandosi ad applicare le loro spietate strategie ma spacciandola addirittura per interventi salvifici l'Italia è un tragico esempio lo scrive Gianluigi Paragone non lo diciamo noi Gianluigi Paragone riprende pari pari quello che negli anni 50 scriveva un grande sociologo francese Henri Costant in un suo libro oltre a essere il direttore di una grande rivista che mi compiacevo di ricevere era anche l'autore di un libro interessantissimo evidentemente mai tradotto in Italia io ricordo che ne entrai in possesso nel lontano 1964 intitolato Le finanzie che manna il mondo i finanzieri che controllano il mondo nel 1964 Henri Costant è facile trovarlo anche nelle varie bancarelle bancarelle italiane no ma usati si usati nelle varie Amazon per 25 anni è stato un perfetto terreno di caccia l'operazione ha incominciato lo sappiamo con loro signori messi a capo della Repubblica delle varie agenzie delle istituzioni delle varie agenzie delle varie banche tutti loro e poi dice sei complottista quello non era un complotto per 25 anni è stato un perfetto terreno di caccia col beneplacito di politici complici e sappiamo chi sono interessati spesso inetti il modello sociale imprenditoriale italiano che tutto il mondo ci invidiava questo il mondo ci invidiava e non era il noto chirurgo che hanno detto che tutto il mondo ci invidia messo a capo dell'emergenza della sanità quando fu cacciata a calcioni Rosi Bindi che non era capace di fronteggiare la rivolta popolare che si stava ribellando perché voleva curarsi con la terapia di bella questa fa la stessa fine questa signorina qua illetterata e incapace non a caso sempre democristiane doc ricordiamocelo bene perché i soldi delle multinazionali a fatto che loro eseguissero i loro ordini però i multinazionali i soldi glieli danno e i soldi arrivano nelle varie correnti della democrazia cristiana come raccontava l'amica che abbiamo intervistato poco fa esattamente è stato indebolito e smantellato al grido ripetuto come un mantra da media e politici di il pubblico è male il privato è bene siamo troppo spreconi e ce lo chiede l'Europa ci siamo indebitati abbiamo perso il lavoro i diritti le tutele sociali e democratiche i danni ormai sono così gravi che non si può più fingere di non vederli gang banca è un atto d'accusa senza sconti che non ha paura di fare i nomi dei colpevoli e di svelarne i misfatti ma è anche uno sprone a informarsi e tutelarsi su questo ho molti dubbi però forse qualche nome può darsi di quelli meno compromessi compromessi magari lo fa ha capito l'antifona lui stando in quella posizione Paragone ha potuto vedere che giorno dopo giorno anno dopo anno il numero di quelli che contestavano questo sistema aumentava a dismisura lui l'ha capito perfettamente ma è anche uno sprone a informarsi e tutelarsi e un appello alla riscossa a riprendersi con l'arba della democrazia tutto quello che ci aspetta di diritto Gianluigi Paragone classe 1971 è stato vice direttore di Rai 2 rete sulla quale ha condotto anche la trasmissione l'ultima vai alla scheda autori Gianluigi Paragone ok e questo mi andava di dirlo l'ultima cosa a compendio perché questi fanno rivecazioni su rievocazioni e noi poi invece diciamo le cose come stanno questo è un articolo molto importante di questo ultimo numero di panorama allora qui c'è scritto c'è un articolo di Martelli niente meno oh ognuno rinasce si fa qualche trasmissione televisione fa qualche difesa del sistema di tangentopoli ma in realtà io non ho visto nessuna mutazione ma senti quello che scrive è stato è stato uno dei più tiepidi del regime ecraxiano fuori discussione anche perché presumo che fosse un personaggio sufficientemente ricattabile in ogni caso quando scrive in queste cose dice quello che deve dire anzi ti dirò di più ma lo dico ai nostri amici perché proprio ieri o massimo l'altro ieri mi è capitato in un video che ho visto casualmente su youtube e che però ho fatto girare uno strano personaggio che da responsabile sanità della CGL era diventato un elemento portante della farmindustria l'industria il sindacato degli industriali del farmaco questa persona ha avuto un dibattito molto grosso contro questa legge delle delle obbligo delle vaccinazioni ed è molto interessante e lo invito i nostri amici perché se vogliono lo possono trovare il personaggio si chiama Ivan Cavicchi ed è un noto è stato ma credo che lo sia ancora un noto sociologo della sanità scrivendo parecchi libri di difficile comprensione però invito i nostri amici che sono interessati alla questione dei vaccini di andarsi vedere quel video il personaggio si chiama Ivan Cavicchi posso proseguire? con questo chiudiamo quante lacrime di coccodrillo perché qui in queste poche frasi svela esattamente qual è la situazione adesso si stanno preparando a fare le lacrime per Falcone quelli stessi che le hanno condannate a morte e qui c'è scritto all'epoca dei veleni di Palermo e dell'attentato di Capaci chi scrive era ministro della giustizia e lavorava a fianco di Giovanni Falcone e qui con documenti ufficiali ricostruisse chi fossero i nemici del magistrato c'è un documento che meglio di ogni altro racconta chi era Giovanni Falcone il suo metodo investigativo la sua probità di uomo e di giudice e all'opposto la fassiosità la non professionalità e l'ignoranza giuridica dei suoi detrattori la non professionalità e l'ignoranza giuridica dei magistrati i suoi detrattori sono i magistrati sempre faide interne certo è il verbale ma interne a che cosa? ad apparati interne alla mafia è il verbale dell'interrogatorio cui Falcone fu sottoposto dal consiglio superiore della magistratura il 15 ottobre 1991 io ho parlato in un mio video su facebook della solitudine del condannato a morte e lo ripeto il condannato a morte è sempre solo e vorrei ricordare qualcuno l'ho ricordato nel mio intervento soprattutto dalla chiesa ma la solitudine di dalla chiesa poco prima di essere assassinato è stata anche documentata da un grande giornalista da Giorgio Bocca che lo andò a trovare alla prefettura di Palermo e dove lui era lì da solo da solo abbandonato ad aspettare l'esecuzione esattamente la denuncia firmata da Leo Luca Orlando Cascio cinque volte si e poi se la prendono con Ciancimino e poi se la prendono con Ciancimino meglio non aprire quest'altro varco no non vale la pena non lo riuniamo proprio la denuncia la denuncia di Leo Luca Orlando Cascio contro Falcone era che lui Falcone non aveva indagato su Salvo Lima come se tutti non sapessero chi era Salvo Lima ora chi è Leo Luca Orlando Cascio un individuo pescato da un noto gesuita il famoso padre Sorge ex direttore della civiltà cattolica che a un certo punto se ne è andato dalla direzione della civiltà cattolica e è andato in Sicilia a portare del bene no e tant'è vero che cosa ha tirato fuori che cosa ha pescato dal mazzo no dal cucusaio che cosa ha pescato Leo Luca Orlando Cascio che adesso si è ricandidato di nuovo ancora sì dopo cinque dopo cinque e poi se la prendono con Ciancimino firmata da Leo Luca Orlando Cascio era di non aver indagato Salvo Lima e l'imprenditore Costanzo come mandanti dell'assassinio di Pier Santi Mantarella allora non metto in dubbio che Pier Santi Mantarella sia stato assassinato da un democristiano come lui come Pier Santi Mantarella non lo metto assolutamente in dubbio anche lì fai l'interno chiaro mi dicessero il contrario anzi me lo dicessero il fratello l'attuale presidente della Repubblica eh lasciamo perdere non entriamo troppo in dettaglio perché se no non usciamo più da quanto mi risulta da quanto mi risulta visto che stanno facendo anche delle riva delle evocazioni del commissario Calabresi mi risulta perché c'era anch'io ma non ero nella stessa classe che nella scuola dove andavo io c'era l'attuale presidente della Repubblica e c'era anche eh c'erano i parecchi sì ma comunque c'era anche Vincenzo Scotti pluricondannato va bene no lì è stata tutta un'altra operazione eh e c'era anche come studenti come studenti il commissario Calabresi io non ricordo bene se erano l'attuale presidente della Repubblica il commissario Calabresi nella stessa classe ma di classi ce n'erano poche perché noi avevamo una linea liceo classico e una linea liceo scientifico non è che c'erano più classi e siccome erano più o meno della stessa età dovevano essere un anno o due anni dopo di me capito quindi no è strano che l'attuale presidente della Repubblica non abbia mai ricordato il fratello martire è vero delle mene andreottiane perché se siccome Salvolina Lima era esattore di Andreotti esattamente e Salvolina è stato il mandante della morte di Piersanti Mattarella ci stupisce come l'attuale presidente ricordiamo sempre che il signore Andreotti fu condannato non scontò la pena perché nel frattempo i reati erano stati prescritti non perché era innocente era risultato penamente responsabile dei fatti a difesa di Andreotti e lo dobbiamo dire Andreotti non era un picciotto era tutt'altro e noi sappiamo perfettamente chi era però usava la mafia per i suoi fini politici come l'ha usata Giolitti ad esempio quindi non è che sia una novità come l'hanno usata gli americani per fare lo sbarco in Sicilia e come lo utilizzano gli occidentali per controllare l'Italia non è soltanto una questione di tre o quattro finanzieri da strapazzo come può essere stato quello che l'hanno trovato impiccato sotto il ponte dei frati neri dei frati neri o come quell'altro eccezionale finanziere col caffè che si è bevuto una tazzina di caffè proseguiamo leggeremo anche cose in merito perché è molto divertente diciamo il sarcasmo allo stato puro ma guarda pare che il caffèinomane avesse fatto per fare un eccesso di sceneggiata anche perché lui di lì non sarebbe più uscito per cercare di uscire attraverso la rappresentazione di una falsa morte esattamente solo che la morte era vera sì e così impara un'altra volta ma lì quella gente lì è la gente che è talmente accanita contro i propri nemici che si mette pure a morire col rischio di morire pur di far risultare che è stata assassinata da qualcuno Falcone conferma ci sono appalti di poco conto e appalti miliardari per la rete fognaria è l'illuminazione e noi lo sappiamo perfettamente per via diretta ci stiamo implicati in qualche diretta e ribadisce non è forse vero che ci sono degli appalti miliardari per le fognature e noi diciamo di sì che ci è implicata tanta gente soprattutto ci sono implicati certi enti che passano per essere antimafia nonostante i cambiamenti la politica dei grandi appalti a Palermo non è ancora trasparente ma guarda ma non solo a Palermo anche a Catania sempre quello come Orlando come anche a Milano sì o Roma sì ma Catania più vicino a Palermo di Milano con Orlando sindaco è tornata a imperare Ciancimino la denuncia di Orlando era dunque una vendetta un pentito aveva riferito una frase equivoca di Costanzo a proposito del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e il consiglio superiore della magistratura chiede al giudice più famoso al mondo era già il giudice più famoso al mondo come lo è stato anche dalla Chiesa ricordiamoci a Rubino perché non agì Falcone replica io non mando avvisi come coltellate chiedere rivia giudizio senza la reggenevare probabilità di vincere è immorale così si scredita la giustizia ma loro lo sanno perfettamente il consiglio superiore della magistratura se ne è strafotte della giustizia e dell'interesse della popolazione italiana con i pentiti bisogna evitare rapporti intimistici guai a farli capire a cosa punti se sono uomini d'onore si chiuderanno se sono inaffidabili ti diranno quel che vuoi in cambio di sconti di pena è quello che avviene tutti i giorni e loro quelli che li fanno parlare lo sanno perfettamente quello con cui parlavo e che avevo chiamato a lavorare con me al ministero della giustizia era un falcone isolato denigrato dai colleghi rivali e dai tromboni dell'antimafia e dai tromboni dell'antimafia eh vedi questa parola che finisce con one oni eh trombone eh insieme elaborammo la strategia che sgominò l'esercito mafioso oggi loro conoscono anche quelli che allora fecero di tutto per ostacolarci come l'associazione nazionale magistrati che indisse uno sciopero generale contro la super procura e come il CSM consiglio superiore della magistratura che bloccò la nomina di Falcone a procuratore nazionale dopo la strage lesti ad ammantarsi della memoria di Falcone furono anche quelli del pool mani pulite ma che strano ma il da boccassini vedi che anche nel pool mani pulite c'era qualche tignaccia ma il da boccassini li smascherò e li sfidò voi non vi fidate di Falcone gli avete mandato le regatorie sulle tangenti senza legati provocandoli un'infinita amarezza tra boccante sdegno Bocassini citò nomi e cognomi Mario Almerighi di magistratura democratica che definì Falcone un nemico politico e quelli del consiglio superiore della magistratura che accusano di essersi svenduto al governo e al ministro Martelli se pensate che Falcone non era più libero e indipendente perché andate ai suoi funerali disse la boccassini Colombo perché vai ai suoi funerali Nando dalla chiesa e Orlando voi non potete andarci ma il da boccassini non solo se la prendeva con Berlusconi ma se la prendeva anche con questi un discorso anche lei c'è ben scheletrini nell'armadio assolutamente non lo dimentichiamo mai ma io non ti immagino un discorso a parte meritano i magistrati siciliani gli ingroia e di Matteo che si professano discipoli e Paolo Borsellino nei fatti nelle scelte processuali più che a Falcone e Borsellino sembrano ispirarsi ai loro nemici ritornano i teoremi fragorosi e indimostrabili l'ossessione del terzo livello la politica che comanda la mafia gli avvisi di garanzia come coltellate in via giudizio senza altre prove che le dichiarazioni intimistiche dipentiti in cerca d'autore fatti apposto per annullare i processi e quindi farli decadere e screditare i processi contro la mafia nei confronti dell'opinione pubblica italiana e internazionale queste sono le cose io mi ricordo e questo avveniva nel 43-44 dopo la conquista della Sicilia da parte di mafia USA United Kingdom la prima cosa che fece la mafia su autorizzazione della mafia italo-americana incominciò a infilare nella magistratura uomini loro cioè praticamente facevano studiare dei picciotti dei ragazzi piuttosto intelligenti ma senza quattrini per andare a scuola li facevano studiare gratuitamente e gratuitamente li facevano andare fino all'università e li facevano vincere e io me lo ricordo molto bene negli anni 50-60 i concorsi quando queste cose si sapevano perfettamente allora che cosa ha fatto il partito comunista? il partito comunista ha fatto lo stesso per cui per molto tempo e anche oggi noi abbiamo associazioni di magistrati che sono in parte in parte mafiosi e in parte comunisti o cattocomunisti è chiaro? a tutt'oggi qui è finito non solo ma ricordo che moltissimi assassini di magistrati comunisti sono stati indetti e organizzati dalla mafia al fine di stabilire una primazia nell'ambito della magistratura non perché non perché questi magistrati volessero perseguire la giustizia ma per un rapporto di forza all'interno della magistratura sempre fai le interne altre tre righe abbiamo chiuso in sottofondo si ode il rumore di processi vivi in tv e morti nei tribunali mentre a Palermo Orlando si ricrandida sindaco per la quinta volta quindi con la benedizione di di chi? del principe dei gesuiti Serge no Sorge che l'ha creato l'ha preso dal mazzo e il principe dei gesuiti chi è? è Francischiello se Sorge capintesta dei gesuiti ha inventato Orlando e altri della congrega l'attuale papa cioè pater patruta vesco di Roma dice lui esattamente l'attuale papa cioè padre dei padri quello che una volta si chiamava pater patruta ed era ben altra cosa di questo stronzetto qui capito? ecco allora è chiaro che Leoluco Orlando verrà di nuovo nominato sindaco di Palermo e sempre in onore di chi? di Sant'Ignazio il quale non solo era quello che era ma ebbe la visione niente meno della Madonna a circa 300 metri da qua da qui chiaro? 300 metri no un paio di chilometri va diciamo un paio di chilometri ma in linea d'aria non sono due sì sì va bene ti voglio diamoci ti voglio dare ragione un chilometro va bene cari amici vi invito tutti a una preghiera proprio nella sede dove a Sant'Ignazio da Loiola apparve vedi caso no? io invece la farei non Carmelo bene in favore di questi poveri disgraziati qua e vabbè che cosa gli vuoi fare? una preghiera una preghiera sono stati uccisi e ricordo che vennero ricordati solo da Craxi quando il braccio di ferro tra Craxi e il partito comunista era diventato piuttosto forte sempre? sempre solong e noi sempre come sapete voi siamo fedeli al grande io priapo che di questi qui queste foreste albergava bene alla prossima sempre